Ciao a tutti, incredibilmente a mia insaputa faccio un talk che è un follow up di quello di... Allora, va bene, intanto mi presento, io sono Federico Klez, come vi pare, di lavoro faccio lo sviluppatore, sono il fondatore del Mestra Club qui a Mestre, se non si fosse capito sono un advocate per la privacy, mi piace anche tanto il free software, abbiamo un podcast su una radio di Padova che si occupa di tecnologia, controllo, privacy e quant'altro, amo il web e odio il web, qua c'è una slide che non doveva esserci, non fateci caso, ok. Allora, come siamo presi al momento nell'ambito social? Siamo presi così, ovvero ci sono 3 miliardi di piattaforme, ci sono intersezioni tra gli utenti che usano una determinata piattaforma e gli utenti che usano determinate altre piattaforme, ma la situazione è abbastanza confusa, perché se non mi trovi su Facebook, mi trovi su Twitter, mi trovi su Signal, mi trovi su Telegram, mi trovi su WhatsApp, mi trovi un po' dove caspita ti pare. Il problema è che ci sono delle piattaforme anche abbastanza grosse e che hanno avuto dei problemi, queste sono cose che abbiamo visto tutti, i problemi che ci sono stati con Cambridge Analytica, quello che dicevo prima, il signore non sembra convinto, e appunto ci sono stati, cioè l'accentramento delle piattaforme, la disponibilità di dati che avevano queste piattaforme, ha portato alla possibilità di fare degli aggregati dei dati in queste piattaforme e vendere pubblicità a chi aveva interesse politico a far passare determinati messaggi. Questo scandalo ha portato a un minimo di reazione, a quanto pare non abbastanza forte, perché quelli che hanno effettivamente cancellato Facebook sono veramente pochi, o avevano già idea di farlo, e appunto è stato solo una Twitter storm di qualche giorno, se vedete lì al 31 marzo c'è qualcosa di aprile, ma in breve sarà già cambiata, ma non sono qui per dire esclusivamente merda su Facebook, questo lo faccio già abbastanza durante il resto della mia vita. Soprattutto non è solo Facebook, sono i mafga o come caspita si chiamano oggigiorno, sono questi simpaticoni che sono i principali, Apple già meno degli altri, ma queste sono le principali piattaforme che gestiscono dati e comunicazioni. Com'era? Fam? Fam? Gaffam? Gaffam, grazie. Quindi cosa possiamo fare noi poveri cristi che vogliamo condividere i nostri dati, ma non vogliamo necessariamente metterli in mano queste piattaforme? Benvenuti nell'IndieWeb. Cos'è l'IndieWeb? In realtà è più che altro una community, una serie di principi, questi sono i principi. Avere la proprietà dei propri dati, usare e pubblicare dati visibili, poi vediamo cosa vuol dire, grattarvi i vostri pruriti, nel senso se avete un problema risolvetevelo e aiutate gli altri, usate quello che fate, documentate quello che fate, tendenzialmente preferite di usare software libero piuttosto che software proprietario. Questo punto qui 7 è abbastanza interessante perché prima viene l'esperienza utente, poi vengono i protocolli, quindi prima decidiamo come una cosa va utilizzata, come una determinata feature, poi vediamo quali sono queste feature, vada utilizzata. Dopodiché ci daremo al tecnico. costruire protocolli che siano indipendenti dalle piattaforme, quindi non devo costruire il protocollo per Facebook, devo costruire il protocollo che parli con il web, anche questo poi vediamo come. Longevità, quindi i dati che pubblico devono stare online il più possibile per evitare che i link a quel dato non abbiano più significato. Pluralità, quindi più ce n'è meglio è. E soprattutto divertirsi. Ovviamente ci dovremmo chiedere anche perché vogliamo fare questa cosa. Un po' per controllo, cioè per avere controllo e agenzia sui nostri dati e su quello che c'è di noi online. Per avere la centralità sull'autore e non sulla piattaforma, su Facebook nessuno conta un cazzo, diciamocelo, e deve essere tutto molto robusto. Come? Questi sono i passi fondamentali. Compratevi un dominio, prendetevi dello spazio in hosting, fate un sito, fatto, figo, molto semplice. Ovviamente ci sarà qualcosa di più, no? Allora, per prima cosa, cerchiamo di capire come creare un profilo, per così dire, come avere la nostra identità. Non spaventatevi, non è così incasinato come sembra. Questo è preso dal mio sito. Quello che serve è un oggetto, una classe Vcard, che ci indica che da qua in poi è il mio biglietto da visita, fino a qua, ed è semplicemente una presentazione dove ho scritto sono Clez, sono sviluppatore, fondatore del Maestera Club, mi piace il free software, mi piace la privacy, mi piace la rete. Di questo, io ho detto che Federico Clez Culloca un nome attraverso questa classe, quindi circondo il mio nome con uno span che ha questa classe, che a sua volta contiene il mio nome, il mio nick e il mio cognome. Dopodiché c'è un'altra Vcard annidata che contiene Maestera Club in quanto organizzazione, è morta là, e poi c'è la foto. Questo come viene fuori una volta renderizzato? Esattamente come ve lo aspettereste. Quindi semplicemente il testo che abbiamo visto con i due link, uno al mio nome e uno a Maestera Club, il link al mio nome punta al sito stesso, sì. Qual è la cosa bella di tutto questo? È che una macchina, un programma, può leggere queste informazioni ed estrarre la mia foto, il mio nome, l'URL che c'è linkato al mio nome, e vabbè, le Vcard annidate sono ancora un po' un work in progress, però insomma si può fare. Mi sta dicendo che manca la mail, ma io la mail non ce la metto perché spam. E come l'ha fatto questa pagina? Lo può fare un qualsiasi altro programma, per cui che ne so, io pubblico un post su un blog e dico l'autore è Tizio Caio, che non sono io magari, perché ha collaborato al mio sito, c'è il linkino, un'applicazione può andarsi, il mio stesso sito può andarsi a prendere la Vcard di questa persona dal suo sito e pubblicare l'informazione sul sito mio. Ha fatto un po' di confusione, spero si sia capito cosa voglio dire. Un'altra cosa interessante che si può fare è l'autenticazione. c'è un protocollo che è web sign in o in the out o come vi pare e due modi per farlo. Uno è local in the out provider che dovrei mettermi su un server sulla mia macchina, sinceramente non l'ho ancora fatto, dove sono io che mi autentico agli altri siti. In modo più semplice in realtà è usare dei link rel.me che indicano che il link in questione, qua per esempio il mio profilo Twitter, punta a punta a un profilo che parla di me. Cioè io nel mio sito sto dicendo questo link parla di me. In particolare ho aggiunto Twitter e Github, questo come viene fuori una volta renderizzato, ovviamente. Se io vado su un sito che supporta l'autenticazione in the web gli do il mio sito e lui mi dice boh, sul tuo sito ho trovato questi due provider di autenticazione, questi due rel.me. Quale vuoi usare? Io in questo caso ho usato Github perché era più bello da vedere. Per cui l'applicazione in the out chiede a Github di autenticarmi. In Github ho un link che punta indietro al mio sito quindi si può verificare in due direzioni il fatto che siamo la stessa persona perché solo io posso aggiungere il mio sito Github e solo io posso aggiungere il mio profilo Github al mio sito. e una volta che autorizzo in the out in the login scusate a leggere i dati da i dati del mio profilo da Github ho fatto login nel wiki di in the web come potete vedere. Io semplicemente clicco su login gli dico il link del mio sito autorizzo in the log ad autenticarmi e sono autenticato sul wiki di indie web un'altra cosa che possiamo fare è avere possesso dei nostri dati questo è banalissimo è un blog ci sono dei post ogni post è composto da un permalink quindi un link che non cambierà mai mai si spera è il link permanente al mio articolo e un oggetto i centri che è un pochino più complesso nel senso che ho il mio articolo che è come abbiamo detto un i centri che ha varie cose tipo ha un titolo ha un url standard ha un una data di pubblicazione scusate un titolo qua in questo caso una data di pubblicazione e poi c'è il contenuto vero e proprio dell'articolo anche questo può essere passato ovviamente questo è il risultato renderizzato in html normale scrisciato dal blog ed è machine readable appunto come dicevamo quindi mi sta dicendo che questo è il titolo l'autore dice che manca la foto ma sinceramente avere il mio faccione su ogni post mi sembrava un po' davanitosi dice che sono io che quello è il mio link qua c'è l'inizio dell'articolo e poi mi dice che c'è la data c'è il link permanente e mi sta chiedendo di aggiungere delle copie in syndication poi vediamo cosa sono e la categoria del blog che cosa possiamo usare per cosa cosa sono i post possono essere qualsiasi cosa possono essere articoli quindi blog foto quindi potremmo sostituire instagram picasa picasa le review su amazon le review su goodreads le recensioni su goodreads qualsiasi cosa vogliate recensire invece che fare la recensione sul sito la fate sul vostro blog e la marcate come tale commenti risposte poi vediamo come i repost quindi se mi è piaciuto un articolo e lo voglio ripubblicare sul mio blog posso farlo video eventi risposte eventi la maggior parte delle cose che possiamo fare tendenzialmente con facebook invece di usare facebook possiamo farlo con il nostro sito che comunica con gli altri siti che ovviamente devono supportare tutto questo e appunto come si può fare a rendere tutto questo social la cosa più semplice è posse quindi pubblicare sul proprio sito e indicizzare altrove cosa vuol dire pubblico un post sul mio blog prendo il link lo incollo su twitter e i ragazzi ho pubblicato un nuovo un nuovo link così non si perde la visibilità che si ha sul social network e comunque il contenuto è in mano mia lo controllo io ovviamente tutto questo può essere automatizzato non è che va fatto manualmente qual è l'indie way sono le web mention è un protocollo che utilizza solamente http quindi nessun bisogno di protocolli particolari funziona in quattro passaggi la prima cosa è menzionare un link quindi io autore menziono un link il mio blog cercherà l'endpoint web mention del blog che sto menzionando notificherà il blog che sto menzionando chi è menzionato verifica che lo sto effettivamente menzionando e il gioco è fatto nel dettaglio la prima cosa da fare appunto è menzionare un link per cui semplicemente metterò un link sul mio post metterò un link a un altro blog dirò questo articolo è fighissimo il mio software di blogging andrà a cercare sul blog che ho link sull'articolo che ho linkato quindi appunto aronpk.example cos'era aronpk.example post by Aaron andrà a cercare su quella pagina una di queste cose ovvero ho un link dentro l'header della pagina che mi indica qual è il web point delle web mention e lo riconoscerà da questo REL oppure direttamente un link all'interno della pagina che mi menziona le web mention o ancora più in alto proprio nell'header HTTP andrà ad aspettarsi questa risposta con REL web mention che mi indica che dov'è l'end point a questo punto una volta che so qual è l'end point posso mandare una post a questo end point indicandogli due cose ovvero il mio sito la pagina che sta menzionando Aaron cioè io sto menzionando Aaron e gli dico lo sto menzionando in questa pagina e gli dico che pagina sto menzionando a questo punto il server mi risponderà che ha accettato la richiesta il server dovrebbe accodarla questo è uno standard V3C per la cronaca comunque per cui ci sono tutti cosa dovrebbe fare cosa deve fare chi comunica con questo protocollo e appunto a questo punto lo mette in coda e mi dice io l'ho accettata la web mention adesso controlliamo per cui Aaron il blog di Aaron farà una semplice get sulla pagina che gli ho indicato come source verificherà che ci sia un link a target per evitare di spammare link a caso e qui deciderà lui cosa farsene di questa web mention potrebbe essere utilizzata come si faceva una volta con i pingback che a coda articolo questo articolo è stato menzionato da oppure può essere usato come questo articolo è una risposta a ci sono varie implementazioni su tostone baradana wordpress ovviamente si possono installare dei plugin per supportare le web mention known che è stato sviluppato apposta per essere un blog che supporta questi protocolli drupal si anche drupal jekyll che è un generatore di blog statici scritti in ruby per cui voi gli date semplicemente il testo del vostro post e lui genera un blog intorno a quel a quel testo pelican che è quello che uso io che è la stessa cosa ma scritta in python e molti 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 altri c'è una lista infinita sul sul wiki di indie web nel caso non ci fosse quello che serve a voi ricordatevi tra i principi il numero 3 grattatevi i vostri pruiti se non esiste createlo che non è mai una brutta idea qua vi do un po' di link per informarvi meglio indie web appunto è il sito principale è un wiki quindi se avete idee potete aggiungerle tutta la discussione viene fatta o direttamente sul wiki o su irc nel canale indie web su free node indie webify qua è il sito che vi stavo facendo vedere prima che leggeva dal mio sito e tirava fuori le piccole informazioni e vi permette in maniera più o meno interattiva di verificare che il vostro sito risponda agli standard per così dire di web questo è il link al protocollo web mention direttamente dal sito del v3c a quanto pare il v3c ancora serve a qualcosa e microformats.org descrive tutti quei vari vcard e i centri tutte quelle annotazioni che aggiungevo sull'html per per appunto vedere tecnicamente come vanno fatte vabbè è stato divertente non ho sentito nessuno ridere ma è stato divertente se ci sono domande abbiamo ancora abbiamo meno due minuti e quaranta secondi quindi basta mi è piaciuto molto l'intervento nel momento in cui però tu pubblichi qualcosa sul tuo sito qualcun altro lo vede nel senso se qualcuno esiste un facebook che decide di scaricarsi quello che vuole comunque se li prende i dati si ma se li voglio allora si non risolvo questo non sto risolvendo questo sto risolvendo il fatto che loro li cancellino li cancellino dalla pubblicazione nel senso che se un domani qualcosa che ho scritto non gli va bene lo cancellano se è sul mio sito gli serve quantomeno un magistrato per cancellarlo e sicuramente non è facebook che si mobilita per cancellarlo non risolvo quel problema quello è un altro problema ancora e non so non ho idea di come risolverlo pensiamoci proviamoci ben volentieri è un problema non sto minimizzando è un problema è stato divertente grazie provo una risposta integrativa per lui cioè nel momento che tu vuoi parlare al pubblico accetti che chiunque possa fare una copia se vuoi proteggerti dall'acquisizione automatica ci sono i robot e puoi decidere in questo modo le tue politiche però con l'indie web che sappia io let's confermami se è vero di solito è che tu pubblichi o per tutti oppure per un gruppo ristretto e quindi la conoscenza del link la web mention del tuo nuovo contenuto sarà visibile solo a chi ha avuto questa notifica e questo link può avere le quinte di un segreto per il quale solamente loro ne hanno accesso oppure puoi fare autenticazioni anche più robuste su se sei parte di questo gruppo allora puoi vedere questo contenuto ma questo funziona solamente se sei dentro il nostro server o non so come si cioè si possono creare degli accrocchi per che ne so appunto dire solo chi ha questo link preciso che ti ho mandato via mail quindi voglio sperare che ce l'abbia solo tu con un token alla fine per esempio lo leggi solo tu oppure posso dire se vuoi leggere questa pagina c'è l'autenticazione con indie web anche volendo appunto puoi puoi fare l'autenticazione come abbiamo visto all'inizio però sì bene o male ci sono dei adesso che mi ci fai pensare ci sono dei meccanismi per per limitare la leggibilità di un post però effettivamente se lo pubblichi l'hai pubblicato legge chiunque temo che il problema di fare in modo che nessuno possa più vedere qualcosa che un tempo io ho pubblicato sia più o meno irrisolubile dal momento in cui abbiamo perso la materialità del dato una volta il supporto se non era stato replicato poteva distruggendo il supporto distruggere la conoscenza oggi se qualcuno è stato in grado di vederlo ascoltarlo può ridigitalizzarlo e a nulla valgono protezioni che lo rendono non come si dice visualizzabile non renderizzabile nuovamente temo che quello non abbia non abbia soluzione no difatti no la cosa divertente è che però questa cosa funzioni in due sensi nel senso che chi vuole far sparire le proprie informazioni da internet per motivi legittimi appunto lo può fare ma se qualcuno nel frattempo si è fatto una copia d'altro canto vale anche per chi vuole far sparire informazioni scomode ma legittime e quindi tutti i tentativi di cancellare un'informazione appunto che è legittimo che sia pubblica vanno a quel paese quindi è un armato doppio taglio se e come questo insieme di protocolli microformats web mention eccetera si interfaccia integra con activity pub che è un altro protocollo non si integra nel senso che non è è out of scope per così dire nulla toglie che tu puoi fare in modo che i post quando vengono pubblicati mandino una notifica a chi è sottoscritto al tuo activity pub puoi fare un endpoint activity pub qua solo che è out of scope diciamo per quanto riguarda non c'entra con le web mention se era quella la domanda è un'altra cosa per fare abbonamenti alla RSS si può essere un sistema posso collegare un blog ad activity pub tranquillamente e poi che ne so pubblicare o anche semplicemente pubblicando il link su mastodon a quel punto ho l'activity pub gratis non so se ho risposto ok altro andiamo a mangiare andiamo a mangiare buono grazie a tutti grazie a tutti